Colli al Metauro Valvuto con un anno di anticipo per la nomina d'assessore regionale e la conseguente decadenza da sindaco di Stefano Guzzi. A sfidarsi domenica e lunedì sono la lista Energia in Comune guidata da Cambio Curina ed insieme per crescere del candidato Pietro Briganti, assessore uscente a lavori pubblici, viabilità e pubblica istruzione, Briganti, 51 anni, laureato in economia e commercio ed è impiegato in un'azienda privata. Come sono andate queste settimane di campagna elettorale? Sono state settimane veramente intense dove gli incontri si sono succeduti quotidianamente ma anche più incontri nell'arco della stessa giornata. Però sono stati veramente interessanti e anche da un certo punto di vista entusiasmati perché ci hanno dato la possibilità di essere vicini ai nostri cittadini, ai nostri concittadini per cogliere ancora di più quelle che potessero essere le loro esigenze e i loro interessi. Hanno avuto modo i cittadini anche di incontrare la squadra? Abbiamo presentato in questi incontri il nostro programma ma la cosa principale abbiamo presentato anche la squadra, cioè le persone che fanno parte del mio gruppo, persone che devo dire una delle prime cose che mi rendo orgoglioso, che abbiamo più donne all'interno del nostro gruppo, nove donne e sette uomini, tant'è che abbiamo ricevuto anche i complimenti dalla consigliera del Pari Opportunità, ma l'aspetto interessante e più importante è sicuramente che siamo tutti cittadini di Coglio al Metauro, quindi che viviamo quotidianamente nel nostro territorio e ci sono delle competenze e delle professionalità tali da farmi affermare che sin dal primo giorno saremo in grado di guidare con certezza questo nuovo comune. Il programma invece è composto da dieci punti. Tra i temi principali rientra quello della viabilità e in particolare la realizzazione di marciapieghi e percorsi ciclopedonali che vadano a collegare tutti i territori degli ex comuni, Montemaggior al Metauro, Saltare e Serrungarina. Un'altra novità potrebbe riguardare la superstrada. L'uscita della superstrada, grazie alla nostra amministrazione uscente, siamo riusciti in questi quattro anni ad ottenere uno stralcio di quello che era il progetto iniziale, il progetto risalente tanti anni fa, che sarebbe rimasto arenato in un cassetto, vista l'entità dell'investimento che avrebbe dovuto sborsare i privati lottizzanti di quell'area. Ora, grazie al nostro intervento, ANAS ha consentito di fare solo uno stralcio di questa uscita della superstrada, ovvero Fano Fossombrone, che verrà realizzata sicuramente dai privati. Altro punto importante per voi è la sicurezza nelle scuole. Grande, grande, grande attenzione a far sì che i nostri bimbi possano rientrare in scuole sicure. Sin da quando ci siamo insediati abbiamo immediatamente verificato lo stato di ogni scuola, abbiamo attualmente dato la progettazione per riqualificarle tutte, e la nostra volontà, avendo anche dei progetti esecutivi, quindi possiamo intercettare i finanziamenti, le metteremo tutte a posto per dare scuole sicure ai nostri ragazzi. Che cosa significherebbe per lei diventare sindaco di Colli al Metauro? Sicuramente daremo continuità a questa amministrazione, un comune che conosciamo e quindi sin dal giorno successivo alle votazioni potremo prendere in mano e guidare questo comune per farlo crescere, per farlo diventare il punto di riferimento della ballata del Metauro. Perché io amo questo territorio, perché ci sono nato e ci vivo da 51 anni con la mia famiglia, con i miei due figli e vorrei che migliorasse la qualità della vita di tutti noi concittadini.